Sono state rese note le terne dei finalisti dei premi internazionali di Fraiano nella serata del 2 luglio prossimo. La presidente Carla Tiboni ha annunciato i nomi dei premiati per la narrativa e l'italianistica Over e Under 35, questi ultimi premi B per 76 le opere partecipanti, 17 quelle dei giovanissimi. Inoltre ci saranno dei riconoscimenti speciali e al termine della serata la proiezione del film Un marziano di nome Egno di Davide Cavuti, proprio sulla vita di Egno Fleiano. Questa serata ovviamente non si ferma soltanto alla narrativa e al premio di italianistica Luca Attanasio, organizzato in collaborazione con il ministero degli esseri e della cooperazione, ma vede anche la premiazione di persone anche in questo caso dello spettacolo o che comunque hanno collaborato e hanno vissuto gran parte della loro vita donando, facendo dono della loro arte e della loro conoscenza alla cultura, ma anche rimettendosi in gioco magari in un settore, quello della narrativa, che non è diciamo quello originario. È il caso di Carlo Verdone, che quest'anno verrà premiato con il premio Flaiano per la narrativa per il film La carezza della memoria. È un libro veramente toccante perché l'attore e il regista ha scritto questo libro durante la pandemia. È un libro fatto di ricordi, fa sorridere, è un libro in cui ricorda molto il padre Mario Verdone, che tra le altre cose è stato un collaboratore dei premi Fleiano. E poi ci sono i premi che riguardano anche chi ha, come dicevo prima, aiutato con la cultura le persone a vivere in modo più sereno. Ed è il caso della professoressa Di Fiore, che ha realizzato una cosa straordinaria, una scuola per i ragazzi presso l'ospedale Gemelli di Roma, per i ragazzi oncologici. Il primo romanzo si intitola I ragazzi con la bandana. I ragazzi con la bandana saranno con noi a Pescara insieme alla professoressa Di Fiore. E poi il premio che credo quest'anno non poteva essere dimenticato perché sappiamo che è il cinquantesimo del Festival Jazz a Lucio Fumo. Lucio Fumo non ha bisogno di presentazioni e creando il Festival Jazz che ha portato a Pescara nomi internazionali e ha reso Pescara internazionale. Lucio Fumo non ha bisogno di presentazioni e creando il Festival Jazz che ha portato a Pescara insieme alla professoressa Di Fiore.